hello everybody e bentornati ad un'altra puntata di video premiere la novità assoluta qui su video music siamo domenica 8 di aprile 1984 con Rick e chiaramente Clive Clive a te no no sono scrota sono scrota Thunberg e ho qualcosa da dire da parte di noi girls che noi ragazzi vogliamo girls just want le ragazze come noi vogliono solo una cosa e cos'è che voi ragazzi volete avere ma lo sanno tutti lo sa anche quella bravissima hai presenti quella sconosciutissima che ora debute con questo nuovo video che si chiama Cindy Lopa quella americana quella di New York che ha fatto un video ha fatto un video spendendo meno di 35 mila dollari perché per loro New York è poco per noi è tanto comunque con tutta la grafica di Saturday Night Live perché c'è lo stesso avvocato e ballano tutti eccetera e Cindy Lopa spiega a tutti noi cosa vogliono i ragazzi e cosa vogliono le ragazze se non lo sai te no le ragazze vogliono solo divertirsi ecco girls just wanna have fun the phone rings in the middle of the night my body yells what you gonna do with your life oh daddy do you know you're still number one but girls they wanna have fun e io so cosa vogliono le donne veramente e non è solo Margaret Satcher tutta le ragazzi all girls just wanna have un parrucchieri sono tutti cucchi e c'è un uccelli che vivono dentro l'arpe rick 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 красone rick n Allora a voi va molto bene perché la lira italiana ogni settimana scende contro il vostro Deutschmark. Deutschmark molto più forte della lira italiana, scudate, scudate. Comunque qui io vivo in West Germania e grido questa macchina, questa auto, vedi, con la Deutschmark, e invece i miei amici dentro di Est Germania grido questa macchina, scudate. Allora voglio presentare grande artista, buona, lei si chiama Nena Hagen, Nena Hagen. No, no, mi sa che non è Nena Hagen, Nena da Hagen, c'è un paese che si chiama Hagen. Sì, ma questo non importa. In questo video non parliamo dei testi perché sono veramente banali. Parliamo di Deutschmark, ah, non Deutschmark, scusami, di contenuto. Allora, questo video, 99 Luftballon. Cos'è? Palloncini, 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 dumb cough, Englander. Ascoltami. Allora, vai nel negozio, compri 99 palloncini, esci dal negozio, lasciali andare dentro l'aria. Bellissimo cielo blu, anche se piove qui in Germania. E i sogni, 99 sogni, come Nena. Guardate il video italiano. Aspetta, vanno bene i profilaci, di preservativo al posto di palloncini. Allora, andiamo avanti. Fräulein, la donna lì, la donna, girati. Ehm, che? Fräulein, io sono Cleaver. My name is Cleaver e io ho qualcosa in mano. Che non è questo, è questo. Anzi, tu sai benissimo quello che ho in mano. Ma che schifo. Cos'hai di due? Due in mano. Io? Io ho due nipote. Due? Stiamo parlando di palle. Io, in mano mia ho una palla di vetro, guarda. Una palla di vetro. È il futuro, il futuro di tutti. E cosa vedi nella palla? Il futuro di cosa? Della musica quale? Cosa vedi? Vedo la morte dell'hard rock. La morte. Ma non è possibile. Il da Rolling Stones, per ever, per sempre. No, la morte dell'hard rock arriverà con un gruppo che si chiama... Butta via la palla, butta via la palla, subito d'un coppa. Aia, che schifo il barbono. Ascolta mi per bene. Ascolta mi per bene. Noi siamo vivi e veduti. Alive and kicking. No, mica ci vuoi dare alive and kicking dei simple minds. Noi vogliamo qualcosa di più hard. Allora, magari ci siamo qualcosa di tedesco. Tedesco, ja. Hard? Nein. Ci sono dei bambini che guardano. Cosa cosa di hard che sa pungere. Che tutto vestito di cuoio nero. Le barche. Tu sei in masochismo, ah, ja. Senti, senti. Stiamo parlando di quella che pungono. Le scorpioni. E anche lui si chiama Reinhold. Come te? Ja, sì. Good, good name, ja. Is this good, ja. Allora, Englander. Dumb cough. Mh. Hashtishita. Facci vedere il suo video. Il video si chiama Rock you like a hurricane. Mi devi sconvolgere come un urugano. È grazie al scorpion. Noi, nonno, no, no. Noi, nonno. Noi, nonno. Mi devi sconvolgere come un urugano. Grazie per la visione!